... Mangia. Devi mantenerti in forza. E cosa serve mangiare per morire? Sei stato bravo, Leonardo. Non hai parlato. Ma tu non hai paura? Ho conosciuto una ragazza. E com'è? Bella? Si chiama Risetta. C'è la ragazza tu? No. La ne hai baciata una ragazza? No. Vedrai che la bacerai.